Domenica 14 luglio 2019 presso il convento di San Francesco a Giorgio Lento, in occasione dell'incontro pubblico dal titolo Destinazione Campania, vi è stata la conferenza stampa di presentazione dell'evento Oltre la Locca delle Arti, dove sono intervenuti il sindaco di Rocca Gloriosa Giuseppe Balbi, il presidente della Proloco Rocca Gloriosa Mirko Grizzuti e la coordinatrice dell'associazione La Rocca delle Arti, Speranza Gerundo. Per noi Olga Marotta, giornalista di Trek in TV. Oggi come ci ha spiegato il sindaco di Gioi è presente anche il comune di Rocca Gloriosa, con noi c'è proprio il sindaco di Rocca Gloriosa Giuseppe Balbi. Buongiorno, sì siamo a Gioi per una giornata organizzata dall'amministrazione di Gioi per promuovere questo cammino nel Cilendo, dove noi stiamo promuovendo il nostro paese attraverso Rocca delle Arti, ormai alla decima edizione. Un appuntamento importante per il comune, ma questo è un appuntamento importante soprattutto per il Cilendo, perché si sta iniziando a capire che per poter raggiungere dei buoni livelli di conoscenza e andare a scavare la nostra cultura e storia c'è bisogno di collaborazione tra i vari comuni. Io sono contento di essere stato invitato per poter promuovere la nostra manifestazione che si terrà il 22, 23 e 24 agosto a Rocca Gloriosa dove si può praticamente poter ammirare la nostra architettura nel paese, non solo dalla storia archeologica a una storia culinaria, quindi vi aspettiamo e siamo contenti di poter promuovere con il Presidente questa manifestazione. E con noi c'è anche la coordinatrice dell'Associazione La Rocca delle Arti, Speranza Gerundo. Ci puoi fare un quadro di quella che è la manifestazione che quest'anno, appunto, come ha detto il Sindaco, giunge alla decima edizione? Sì, quest'anno giunge alla decima edizione organizzata dall'Associazione La Rocca delle Arti il 22, 23 e 24 agosto. Palcoscenico naturale della manifestazione della Rocca delle Arti sono i vicori del Comune di Rocca Gloriosa di epoca medievale. Diciamo che il borgo in quei giorni si trasforma in una vera e propria mostra a cielo aperto dove ospiterà artisti, musicisti, ci saranno diversi laboratori dalla pittura alla ceramica, l'orificeria, la scultura, rappresentazioni teatrali. Insomma, ci sarà tanto da vedere in quei giorni. Sicuramente non mancherà anche l'arte culinaria. Devo dire che da sempre siamo attenti anche a promuovere le tipicità enogastronomiche con una ricerca approfondita di quelli che sono i prodotti di qualità e prodotti nel rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema. Un grazie a tutti coloro che ci hanno collaborato, un grazie all'amministrazione comunale di Rocca Gloriosa, un grazie al sindaco, la dottoressa Maria Teresa Scarpa che oggi ci ospita qui a Gioi Cilento, a Rete Destinazione Sud, dei nostri partner, qualcuno sono anche qui con noi oggi a Gioi. È importante la rete, è importante che si collabora, è importante che si esca fuori dai propri confini territoriali perché per promuovere un territorio bisogna mettersi in movimento, come diceva il sindaco, bisogna mettersi in cammino, quindi ben vengono iniziative del genere. Grazie a tutti.